Ben trovati all'appuntamento col Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. E allora vediamo per questo appuntamento quali sono i titoli. Parleremo, e non possiamo ovviamente esimerci, dalla mozione che passa all'unanimità contro il licenziamento dei lavoratori della GKN. Poi è stata respinta invece una mozione della Lega che riguarda il Green Pass e i vaccini. E poi un premio a margine della manifestazione cortona antiquaria. E quindi parliamo della situazione che è in continua evoluzione alla GKN per scongiurare i licenziamenti annunciati dai vertici dell'azienda. Al centro di una mozione che è stata approvata nel recente Consiglio regionale all'unanimità dall'Aula c'è la richiesta del ritiro immediato del licenziamento collettivo e dell'attivazione degli ammortizzatori sociali. Un obiettivo da raggiungere in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, gli enti locali, le rappresentanze economiche e sociali. Accanto a questo c'è un impegno ad attivarsi con il Parlamento e con il Governo per porre dei limiti più stringenti alla disciplina delle delocalizzazioni per le imprese che beneficiano di aiuti pubblici, valutando tutti gli spazi possibili anche in un intervento regionale. Vogliamo ricordare anche che la Commissione regionale per le pari opportunità, lo scorso 22 luglio, si è presentata per incontrare il coordinamento donne della GKN che è stato appena costituito proprio nella sede di Campi Biseccio. Ascoltiamo il Presidente del Consiglio regionale e poi i consiglieri. Noi abbiamo voluto aprire la seduta odierna discutendo della situazione terribile, ignobile in cui sono stati costretti a versare i lavoratori della GKN. Ieri eravamo tutti in presidio, sono felice che tutte le forze politiche abbiano deciso di sottoscrivere, di firmare questa mozione che dice sostanzialmente tre cose. La prima, che quella fabbrica deve riaprire, che deve ritornare la produzione. La seconda è che GKN torni indietro, il fondo Merros torni indietro e decisa di ritirare i licenziamenti. E la terza al Governo, al Parlamento, all'Unione Europea, perché mettano in campo normative che vadano nella direzione di disincentivare le delequalizzazioni. Guardate, la battaglia di GKN, delle lavoratrici, dei lavoratori è una battaglia di dignità, la dignità del lavoro. Un'azienda che non era in perdita e che decide così la notte di scappare via, di scappare, lasciando per strada centinaia di famiglie, è qualcosa di ignobile e tutta l'Assemblea legislativa con forza l'ha urlato. Noi saremo al loro fianco, non sarà la loro battaglia, ma sarà la battaglia di tutti i cittadini della Toscana. Noi chiediamo alcune cose molto chiare. Il ritiro del licenziamento delle 422 persone, chiediamo di attivare subito tutti gli strumenti di sostegno ai lavoratori, di attivare i percorsi previsti dalle crisi di impresa che saranno poi, avrebbero dovuto essere operativi dal primo settembre e che quindi non è possibile in questo momento attivarli. Quindi abbiamo chiesto al Governo un impegno forte, l'abbiamo chiesto anche all'Europa, perché il senso vero è che non ci siano GKN né oggi né domani. Dalla Regione deve arrivare un segnale che queste pratiche non sono consentite. Quindi dobbiamo attivare tutti gli strumenti necessari perché questo, che è il primo grande esempio, sia l'ultimo e che si riesca a salvare queste persone che non vogliono neanche venire a un tavolo delle trattative, così come ci hanno detto, neppure con la Regione. Ma allora, i temi del lavoro, della tutela e dell'occupazione sono temi che devono unire le istituzioni, che devono manifestare vicinanza soprattutto a tutte quelle famiglie che dall'oggi al domani si ritroveranno a mettere in dubbio un percorso di vita. Quindi su questo, ripeto, la politica si deve unire. È chiaro che ora c'è una sfida importante, una sfida però che chiama la politica alle proprie responsabilità. C'è una sfida che parte a livello di Ministero dello Sviluppo Economico. Il peso della Toscana oggi comunque si è fatto sentire a livello istituzionale, ma questo non basta. C'è la parte statale, la questione ministeriale, ma c'è anche una parte regionale. E per quello che noi possiamo fare sicuramente l'obiettivo principale è uno, quello di agire per quanto più possibile sia sotto il profilo della tutela, ma soprattutto sotto il profilo, nella denegata ipotesi, in cui purtroppo i licenziamenti dovessero concretizzarsi, soprattutto sul fronte della reintroduzione al lavoro. Non si può pensare per chiunque, sia esso un investitore straniero o un investitore italiano, arrivare nel nostro Paese, cercare di prendere quello che c'è e poi abbandonare tutti. La questione dei licenziamenti è inaccettabile, immorale e va immediatamente respinta. Per questo noi abbiamo chiesto fin dall'inizio che i lavoratori vengano immediatamente riassunti e che si apra non solo un tavolo con quell'azienda, ma con tutte le nostre aziende del territorio, per far capire che Governo e Regione stanno dalla parte dei lavoratori, stanno dalla parte dell'impresa, quando fra questi c'è un rapporto fatto di serietà e di rispetto reciproco. È inaccettabile quando uno dei due, siano essi i lavoratori o siano essi i proprietari delle imprese, pensano che il rapporto è squilibrato rispetto a quello che c'è in campo, spetta alla politica a fare da arbitro. Un sostegno forte, unanime a una mozione che impegna il Governo a trovare una soluzione urgente, immediata, a bloccare i licenziamenti collettivi, a tutelare le famiglie, i lavoratori, le persone chiedono dignità, chiedono lavoro, siamo vicini alla loro sofferenza, alla fatica, alla loro protesta, ma soprattutto serve che il Governo faccia presente a livello internazionale, alle multinazionali, il ruolo importante della localizzazione di queste grandi aziende e non si può ovviamente dalla sera alla mattina chiudere un'attività imprenditoriale, non si può dalla sera alla mattina abbandonare la forza lavoro, le persone che fino al giorno precedente hanno dato tanto della loro vita, la loro anima, la loro identità, la loro dignità per portare avanti poi gli interessi economici di un'impresa. Quindi serve una risposta immediata e servono anche leggi normative e mi auguro un atto urgente del Governo per sospendere i procedimenti, per ridiscutere ovviamente con l'azienda e costringere ovviamente le imprese che operano nel nostro Paese a un dialogo costante con le istituzioni. Le aziende che rappresentano una ricchezza del territorio, che lo Stato nazionale non fa niente per difenderle, finiscono nelle mani non di investitori stranieri, che sarebbe poco male, ma di fondi speculativi che vivono la realtà aziendale unicamente come un più e un meno su un registro bancario e questo porta alla situazione della CKN. Io sulla CKN non mi stancherò mai di dire però una cosa, l'unica peculiarità di CKN è che CKN non produce pantaloni, CKN non produce magliette che vanno sul mercato, CKN all'80% produce pezzi per Fiat, cioè l'azienda che ha fatto del Made in Italy il proprio brand in tutto il mondo. Ed è vergognoso che un'azienda come Fiat, che negli anni ha vissuto di incentivi, di aiuti, di sostegni da parte dello Stato italiano, non abbia speso una parola sulla questione CKN. CKN è un caso nazionale non soltanto per il numero di persone, di famiglie che sono coinvolte, ma soprattutto per le modalità con cui questo è avvenuto, che richiama tristemente quanto già successo con Beckert, che ha visto all'epoca l'impegno del ministro Di Maio. La viceministra Todd è stata immediatamente da noi avvisata e dopo l'incontro che ci è stato fatto ha dichiarato chiaramente che non accetterà una soluzione di questo tipo e continuerà a lavorare per far sì che si ritorni indietro, si faccia un passo indietro sui licenziamenti. E questo è l'impegno che dobbiamo avere tutti come Regione e come Governo, proprio perché purtroppo c'è stato lo sblocco dei licenziamenti, cosa che il Movimento 5 Stelle, diversamente da tutte le altre forze politiche dell'arco governativo ha combattuto. Significa che dovremmo combattere molto per tutti quei lavoratori che in questo momento sono a rischio del loro posto di lavoro e si parla di circa 15.000 in tutta la Toscana. Parliamo di vaccini e di Green Pass, modificare i criteri per il passaggio da zona bianca a zona gialla e cambiare l'estensione dell'obbligo della certificazione verde. L'impegno alla Giunta regionale di farsi portavoce presso conferenze a regioni e il Governo viene chiesto proprio nella mozione presentata dal portavoce dell'opposizione Marco Landi. Nell'atto si specifica appunto che potrebbero comportare forti limitazioni in passaggio alla zona gialla. L'atto comunque presentato dall'opposizione è stato respinto, ha ricevuto 14 sì, 21 no e un'astensione. Ascoltiamo il commento appunto del portavoce dell'opposizione e poi anche sul discorso dei vaccini e del Green Pass, i consiglieri. La Toscana purtroppo sta gestendo ancora ad oggi una campagna vaccinale che risente di quell'errore originario che è stato fatto a inizio anno quando non si è data la giusta attenzione ai più fragili e ai più enziani. Negli ultimi due mesi abbiamo visto che il tasso di mortalità in Toscana e il tasso di ricovero in terapia intensiva è stato tra i più alti delle regioni in Italia. Questo vuol dire che evidentemente siccome coloro che più si ammalano più vengono ricoverati, più vanno in terapia intensiva e purtroppo più muoiono per Covid-19 sono gli ultra 65 anni. Se questo accade in Toscana evidentemente vuol dire che questa campagna vaccinale qualche pecca l'ha avuta. Quindi non si può pensare ancora ad oggi di dire che va tutto bene ma bisogna tenere alta l'attenzione. Noi lo stiamo facendo come posizione in maniera costruttiva. I dati oggi ci dicono che per vaccinazione completa, cioè tra prima e seconda dose in Toscana, noi siamo ultimi e in questi giorni siamo anche agli ultimi posti fra il terzo e il quarto ultimo posto per quanto riguarda dosi a disposizione e dosi somministrati. Abbiamo portato una mozione molto semplice dove si chiedeva in termini corretti quello che deve fare un'assemblea regionale, cioè impegnare la Giunta e il Presidente della Giunta ad intervenire alla conferenza delle regioni a dire che questo concetto del Green Pass per l'esperienza e per i dati che abbiamo anche in Toscana e quindi portare un valore aggiunto alla conferenza delle regioni è un'assurdità. La campagna di vaccinazione sta andando avanti, ovviamente c'è stato in luglio questa riduzione di consegne che ha determinato un po' uno stop, come abbiamo visto sono state per diverse settimane chiuse le prenotazioni, ora sono riaperte e ora sta diventando il problema convincere soprattutto gli over 60 a vaccinarsi. Noi abbiamo ancora 75.000 over 60 non si sono vaccinati, il messaggio dell'importanza di vaccinarsi deve essere fondamentale perché lo sviluppo della variante Delta che vediamo in questi giorni, poi basta guardare gli altri paesi, comporterà sicuramente nei prossimi giorni un aumento dei contagi e questi se abbinati a un'immunizzazione del maggior numero possibile di persone, soprattutto delle persone che più rischiano, possono permetterci di affrontare con un altro profilo e soprattutto senza riaumentare le ospedalizzazioni. Questo è un elemento importante, poi da metà del prossimo mese cominceranno anche le vaccinazioni dei pediatri per gli over 12, ricordo anche per loro sono già aperte le prenotazioni, anche in vista dell'anno scolastico è importante continuare a far passare il messaggio che il vaccino è sicuro e serve per combattere questa epidemia. Sulle vaccinazioni noi siamo favorevoli al fatto che le persone vaccinate possano beneficiare di una vita sociale, pubblica, andare in un bar, in un ristorante, in un teatro, in un cinema, andare a uno stadio, a una manifestazione sportiva, a partecipare alla vita pubblica, siamo convinti che anche persone che lavorano nel pubblico, penso insegnanti ma soprattutto medici, debbano essere vaccinati e crediamo che appunto soltanto una volta vaccinati si possa tornare a una vita normale, quindi è evidente che il Green Pass è fondamentale per tornare alla vita, bisogna continuare a vaccinarsi, bisogna investire sulla cura e bisogna fare delle norme che o costringono le persone o inducano di fatto a vaccinarsi perché altrimenti noi non usciamo più per i prossimi tre o quattro anni da questa pandemia. Oggi chi ha il Green Pass non deve fare quarantena, mi meraviglia che ancora il Governo non abbia legiferato e non abbia fatto un'azione concreta su questo, qual è il vantaggio per un cittadino oggi di vaccinarsi? Questa è la domanda che mi sono fatto, se uno dei miei parenti o chiunque io abbia incontrato nelle 48 ore antecedenti ha il Covid e diventa positivo, il sottoscritto che ha due dosi vaccinali e il passaporto vaccinale va in quarantena, questo è inaccettabile. Occorre per chi si vaccini che ci sia un vantaggio che non è sicuramente un vantaggio per la propria salute, quindi non finire in ospedale, un vantaggio per la collettività perché non andando in ospedale non affolli gli ospedali, ma occorre che ci sia anche un vantaggio diretto, c'è un beneficio diretto. Chi ha il Green Pass, chi ha la doppia dose vaccinale non deve finire in quarantena. Parliamo invece di un evento storico per Cortona, la spreda cittadina in provincia d'Arezzo, si parla di Cortona Antiquaria 2021 e proprio a margine di questo grande appuntamento di antiquariato sarà conferito ai donatori di una collezione d'arte con dipinti, sculture e opere su carta dei coniugi Daria, Usilio e Renato in grosso e questo appunto diventa una mostra permanente in Cortona al centro del convegno Sant'Agostino che si inaugura proprio nell'ambito di Cortona Antiquaria e proprio su questa manifestazione ascoltiamo proprio l'importanza per il territorio e non solo. Si parla di mobili, vero? Ma pensiamo a quello che è successo negli anni settanta soprattutto quando alcuni antiquari giravano per le frazioni del nostro territorio ma non solo, penso in tutta Italia, e rascimolavano tra virgolette la mobiglia quella preziosa in cambio magari del mobile lucido o del rinnovo della camera piuttosto che della cucina. Ecco, questi antiquari hanno prodotto un qualcosa di eccezionale, hanno preservato il nostro patrimonio. La mostra Cortona Antiquaria è la cassa dove si può esporre questi patrimoni, si fa anche business, ci mancherebbe altro da parte appunto degli antiquari stessi ma tuttavia è una mostra che dà importanza a quello che è il mobile antico. Questa mostra così antica e così legata al nostro territorio dimostra il legame indissolubile tra il turismo e la manifattura di qualità. Questa è la nostra Toscana, il mobile antico, esposizioni che richiamano da sempre migliaia di visitatori da tutto il mondo, in una vetrina, una veramente cornice straordinaria, qual è la città di Cortona. Siamo alla 59esima edizione, è un momento importante, non era semplice, grazie al coraggio di chi ha deciso di fare in modo che questa manifestazione possa svolgersi. Il 21 di agosto sarò con voi perché momenti come questi danno il segno di una Toscana che rialza la testa e che partendo dalla propria storia, dalle proprie tradizioni guarda al futuro, mobilio, arte, artigianato di qualità. La Toscana è anche questo e il fatto che Cortona diventi la capitale in quei giorni di tutto questo è il segno di una Toscana che davvero alza la testa e guarda con speranza al futuro. E con Cortona Antiquaria si conclude anche il nostro appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo per tutti gli aggiornamenti le informazioni www.consiglio.regione.toscana.it Io vi aspetto come sempre qua tra sette giorni Dentro il Consiglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.